Le pale velate, nuvole basse sulle montagne simbolo del Primiero e acqua a catinelle, piove su questa valle che oggi ricorda la devastazione di mezzo secolo fa, acqua che da queste parti è nella fonetica del nome di paese e frazioni, acqua che evoca paura, che sancisce però anche la rinascita della comunità primierotta. Stamane la protezione civile si è riunita nella piazza di Fiera, vigili del fuoco e mezzi di soccorso schierati per dimostrare sicurezza, per non dimenticare il passato, interventi allora decisivi a garanzia del futuro. Io sono stato plombato qui su ordine del presidente della provincia che allora era Bruno Kessler perché sembrava che le notizie fossero tragiche. Una guerra si diceva? Una guerra si diceva e difatti io che non ho fatto l'anaia qui l'ho fatta. Tanta acqua, acqua nel nome ma anche tanta solidarietà giunta addirittura da lontano, addirittura dalla Val d'Aosta, uno scambio tra regioni. Eraldo Manganone, lei è arrivato qui con una trentina di persone? Sì, sono arrivato qui con 30 persone, 15 camion, 7 pale meccaniche e abbiamo operato fino al mese di dicembre, abbiamo per ultimo collegato una frazione di Canal San Bovo. Nell'auditorio di Transacqua, cerimonia ufficiale commemorativa tra testimonianze e progetti di tutela ambientale, territorio sicuro, il bosco che cresce come la coscienza ambientalista, Primiero 66, spartiacque di cultura dell'habitat.